Sarà proiettato in anteprima lunedì 8 luglio a Villa di Serio, via Antiqua, film documentario che racconta la storia del sentiero della Carrezzola e degli uomini che hanno permesso che non scomparisse. Abbiamo voluto realizzare un documento che riuscisse a far mantenere nel tempo il racconto di un antico sentiero, a far vivere l'atmosfera e la quotidianità ed avvicinare gli spettatori ad un mondo passato, spiegando allo stesso tempo il presente, percorrendo insieme la mulatiera del bosco. Raccontare la natura con i colori delle stagioni, usando in maniera simbolica le immagini della vita che gli avvenimenti passati raccontano, trasformando il racconto in sentimenti e sensazioni. Il documentario vede come protagonista Camillo Corti, artefice oltre 25 anni fa del progetto di riportare alla luce, con coraggio e fatica, il sentiero, lungo circa due chilometri, che inizia dal fondo valle a Villa di Serio. Ci siamo messi un po' così, senza organizzarsi, senza fare… perché qua noi adesso abbiamo un ponticello. Quando noi abbiamo incominciato c'era il torrente e basta. Poi se voi vedete andando avanti abbiamo risanato tutto, perché c'era dentro di tutto. Famiglia Rima, di tutto, dalle batterie di macchine a qualunque tipo di rifiuto. Far conoscere a chi non sa, tramandare ai giovani le bellezze delle cose semplici, l'amore per la natura e per la storia. Questo è il fine del documento filmato di Paolo Trivella.